A mie spalle vedete i 100 vingitori del secondo concorso SLK di Vodafone. Per loro è chiaramente una giornata straordinaria, una giornata di grande felicità e di grande soddisfazione per ritirare la loro SLK. Quest'anno abbiamo avuto un milione e mezzo di giocatori, direi decine di milioni di SMS che sono arrivati. Abbiamo coperto tutto il territorio nazionale. Molto fortunato è stato il Veneto perché abbiamo avuto mi pare 16 vincitori dal Veneto. Abbiamo vincitori che vanno il più giovane a 19 anni e la persona più anziana che ha vinto a 78 anni. Era un meccanismo di estrazione assolutamente randomico, casuale, per cui contava molto la fortuna. Grande fortuna anche, sto pensando a cosa penseranno le altre milioni di clienti di loro che sono qui a godersi questa importante vincita. Dovrei salire sul palco e consegnare 100 chiavi, ci sono 100 ipotetici vincitori. Hanno inviato questi SMS e addirittura uno, doppio culo, si può dire culo, doppio culo. Ne ha inviato uno e ha vinto la macchina, incredibile. No, non l'ho inviato. Non ce l'ho fatta. Poi io non c'entro nelle SLK, ho la pancia, hai capito? Quindi è nulla. La parte G commerciale è nata quando abbiamo iniziato a pensare quale potesse essere il premio più adatto ad offrire per i nostri clienti. Un'auto che fosse aspirazionale e abbastanza trasversale per il target sia femminile che maschile. Io sono sempre molto contento quando posso consegnare 100 SLK come oggi. Grazie a Vodafone e grazie al nostro partnership. Noi lavoriamo con Vodafone da tanti anni. Nasce sicuramente dalla sponsorizzazione in Formula 1 e poi si concretizza anche in molti eventi sul territorio, non solo con attività come questa ma anche con attività di vicinanza tra i due brand. Abbiamo una bella giornata, sono molto sicuro. Per questi 100 clienti è davvero una giornata straordinaria. Credo che i clienti potranno essere soddisfatti. Sono contenti, sono sicuro. Quando sono dentro in un SLK sono contenti.